Campionato avvincente e imprevedibile, ma soprattutto abruzzesi tutte protagoniste. Dal Chieti all'Aquila, dall'Avezzano al Notaresco, squadra quest'ultima che esprime il calcio più divertente del Girona F. Netta la flessione crisi della San Benedettese, sconfitta in casa 3-1 dal Senigallia. Ora cinque compagini sono nello spazio di quattro punti. Fermato sullo 0-0 a Terme, il Campobasso guida la classifica con tre lunghezze di vantaggio sul terzetto San B, l'Aquila e Avezzano. Un gradino più sotto il Chieti, che si è rilanciato all'Angelini, sconfiggendo nettamente il Matese. Non un avversario impossibile, il team Campano, ultimo in graduatoria, ma i neroverdi sono tornati a successo, regalando ai tifosi finalmente anche sprazzi di bel gioco. Ancora segno fa al settimo sigillo per il capitano, una sentenza in area avversaria. La continua crescita di Salvatore, che sblocca il punteggio, e poi il gioiello di Postiglione, che prodezza. Ruolo difensore, ma piede da centrocampista raffinato. Specie nel primo tempo il notaresco mette in difficoltà l'Aquila. Ritmo e giocate, l'impronta è riconoscibile. Un legno a testa, meglio il rosso-blu di Cappellacci negli ultimi 20 minuti. Finisce 0-0, ma derby tutt'altro che banale. L'Avezzano riscatta l'inopinato KO di Fano, e torna a flertare con la vittoria battendo di misura il Corriacio e Dispido Sora. In calce la firma di Raffaele Ortolini, gol numero 4 in campionato splendido dal punto di vista tecnico, soprattutto gol da tre punti. Insomma, fine anno col sorriso per l'Abruzzo. Ora il meritato riposo natalizio. Dal 7 gennaio la corsa ricomincia. Grazie a tutti.